Papà, ma dove nasce il parmigiano reggiano? Nato in Emilia, da una ricetta antica È naturale e senza conservanti È ricco in calcio e ha tante proteine Se è così buono, sarà il parmigiano E il parmareggio che buono, gustoso e assai speciale E il parmareggio che buono, di 30 mesi, sì! Parmareggio 30 mesi, un capolavoro da vero intenditore Il parmareggio 30 mesi, un capolavoro da vero